Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo. Continuano sempre i nostri appuntamenti di fine mese con la rubrica Dylan Dog. Oggi parliamo del numero 417 dal titolo L'Ora del Giudizio. Prima di cominciare, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega. Condividete il video con tutte le persone che sono state accusate ingiustamente. Commentate qui sotto con quello che ve ne pare di questo numero e del numero precedente, perché sono in qualche modo collegati. Andiamo bene a capire perché. Dylan Dog 416, L'Ora del Giudizio. Secondo capitolo dopo il 416 dal titolo Il Detenuto. Il che è un po' insolito, dato che questa duologia non è stata scritta dallo stesso autore. E sì, perché nel 416 soggetto e sceneggiatura erano di Mauro Uzeo e i disegni erano di Arturo Lauria. Mentre il 417 è il soggetto e la sceneggiatura è di Barbara Baraldi e i disegni sono di Angelo Stano. Quindi com'è possibile questa cosa? Da fonti autorevoli sappiamo che Uzeo, quello che voleva dire nel suo numero 416, lo ha detto. Quindi non c'è un sequel alla storia che ha voluto dare Uzeo. Quindi questa è, in un certo senso, è un'altra storia. Ma qui è proprio tutto merito, credo, di chi sta sopra, di chi cura la collana di Dylan Dog, che ha saputo prendere due storie apparentemente distinte per creare una sorta di continuity a Dylan Dog. E devo dire che se questa è la nuova idea che si deve dare alla serie regolare di Dylan, cioè dove le storie si possono leggere sia in completa autonomia, prese in edicola, pescate così, ma allo stesso tempo chi le legge con continuità riesce a trovare un filo conduttore tra una storia e l'altra, nonostante non siano davvero collegate, nonostante non siano scritte secondo un arco narrativo dallo stesso sceneggiatore, ma siano collegate dal curatore, da chi c'è dietro, devo dire che questa cosa a me piace tantissimo. Se così deve essere, benvenga. Anzi, mi piacerebbe davvero che questa sia la nuova via, il nuovo corso di Dylan Dog. Un Dylan Dog sempre con una trama verticale, indipendente, ma sempre collegato, un po' anche per differenziarsi dall'Old Boy, dove invece sono sempre delle storie a sé stanti. Come dice lo stesso curatore, appunto, Orecchioni nel suo editoriale, che vi consiglio assolutamente di leggere in questa zona, in questo trafiletto, una storia pienamente personale e autonoma, che trova però nella giusta posizione, con quella che l'ha preceduta, pieno significato. Quindi non sono storie studiate per essere una il seguito dell'altra, ma capitano a fagiolo e sono state unite. E questa cosa mi è piaciuta molto. Ma parliamo della storia di per sé. La storia, appunto, sceneggiata da Barbara Baraldi. Di recente Barbara Baraldi l'avevamo vista nel numero 400... scorreggetemi se sbaglio... nel numero 407, ovvero il primo numero dopo il ciclo 666. E devo dire, a me quel numero non mi era piaciuto molto. Forse perché è stato proprio un bello stacco dopo il ciclo 666 e tutti ci aspettavamo che si continuasse in quella direzione. Invece lì abbiamo proprio capito che avevano ancora molte storie di Dylan Dogg pre-meteora da sbolognare. E questa cosa si è sentita molto e è stato un forte impatto. Questa storia, invece, mi è davvero piaciuta tanto. Se potessi esprimere un desiderio, avrei preferito che dopo il 406, l'ultima risata, ci fosse stato direttamente il 416 e poi il 417. E lì si sarebbe impennato tantissimo, secondo me. Però, vabbè, abbiamo avuto delle storie di mezzo. Abbiamo avuto il ciclo del buio che... è stato rimaneggiato un po' troppo. No, non mi era piaciuto. Però è andata così. Qua abbiamo delle storie davvero ottime. La sceneggiatura della Baraldi mi è piaciuta molto. Mi sono piaciuti molto i disegni di Stano. Per chi mi segue sa che di recente io ho fatto il video sul numero 25, Morgana. Quindi avevo in mente lo Stano di Morgana. Leggere, vedere i disegni dello Stano attuale è davvero un miglioramento assoluto. Mi è piaciuto tantissimo vedere la crescita di questo disegnatore. Ovviamente questo è lo Stano, lo stile di Stano, che si trova nel numero 400, per esempio. Però, appunto, avendo letto di recente, avendo riletto di recente Morgana per fare il video, vedere questa differenza di stile, questo miglioramento di stile, mi è davvero piaciuto tanto. Non mancano però alcune note dolenti, alcune note negative, non negative nel senso che la storia abbia dei difetti, ma che non mi ha dato quello che speravo. Dovete capire che l'hype, quindi l'attesa, la gioia dell'attesa di un numero, è una medaglia a due facce. E non mi riferisco a quelle che sono incluse per gli 80 anni della Bonelli, ma mi riferisco al fatto che tutto questo hype che ci ha dato la fine del 416 e l'attesa del 417, dove a seguito delle dichiarazioni del 416, cioè che Dylan Dogg era accusato di omicidio, avremmo visto il processo nel 417, mi aspettavo una storia leggermente diversa. Mi aspettavo una storia molto più pericolosa, molto più terrena, dove Dylan Dogg davvero rischiava di finire in galera per un omicidio o che non aveva commesso, o peggio ancora, che rischiava di finire in galera per un omicidio che magari aveva commesso e non si ricordava di aver commesso. Questa cosa mi aspettavo. Dopo il numero 416, così carico di significati, mi aspettavo una cosa del genere. Invece qui si fa praticamente un viaggio nella mente, nei demoni interiori di questa Hillary, di cui scopriamo il cognome in questo numero, Hillary Robbins. Si fa un viaggio nella mente di questa Hillary perché pare che abbia avuto un trauma nel suo passato, questo trauma abbia generato nella sua mente dei demoni interiori che lei non riesce a combattere, e allora c'è questo scienziato che ha pensato di incanalarli in un'entità all'interno della sua mente, in un'entità fisica e c'è solo una persona in tutto il Regno Unito che è in grado di fare da tramite tra il regno dell'onirico, il regno della mente, il regno reale, il mondo reale e questa persona è... scusate ho sbagliato fumetto... è Dylan Dogg. Però sa un po' di già visto questa cosa. Non lo so, io non credo che Barbara Varaldi legga Samuel Stern e abbia letto il numero 16, Il Processo Stern. Però a soli due mesi di distanza vedere una storia in cui Dylan Dogg deve subire un processo che poi non è un vero processo ma è tutto un percorso nella mente o di Dylan o di Hillary stessa e che tutto si mischia tra realtà e incubo sa tanto di già visto in Samuel Stern il processo Stern, Samuel Stern numero 16. Poi devo dire, se avete visto il numero di Samuel Stern che vi metto qua nelle schede qua sotto in descrizione, per altri motivi non mi aveva entusiasmato molto questo numero. Quindi se devo dirla tutta, tra un tribunale onirico di Samuel Stern e il tribunale onirico di Dylan Dogg dell'ora del giudizio, ho comunque preferito Dylan Dogg l'ora del giudizio. Però ecco, cavoli, l'ho già visto. Tutto lì, eh, non è un difetto alla storia in sé, è un difetto per la mia percezione perché leggo entrambi i fumetti. Ovviamente uno che non legge Samuel Stern non si può accorgere di una cosa del genere, anzi, può trovare davvero interessante vedere Dylan Dogg che compie un viaggio del genere all'interno davvero degli incubi di una persona e scopre davvero dei demoni interiori di una persona, nel senso come lo intendiamo noi nel mondo reale, quindi non reali mostri, reali demoni, ma demoni nella propria mente. Quindi è un'idea fantastica che sarebbe bello vedere anche di nuovo affrontare da parte di Dylan Dogg se non fosse appunto che, cazzo ne dicola, c'è qualcosa che già lo fa. Tutto lì è solo una mia percezione da lettore di Samuel Stern. Chiusa parentesi. Dylan Dogg in questo numero è protagonista assoluto, è tutto un viaggio nella mente di questa Hillary, ma è tutto dal punto di vista di Dylan Dogg. Lo stesso graucio è presente come entità che si manifesta nella mente di Dylan Dogg, non è un graucio reale, non è il graucio che aiuta, diciamo, quello che mi era piaciuto nell'ultimo Colorfest, ma è il classico graucio che ogni tanto arriva, fa la sua linea comica, fa due tavole di linea comica e ce ne sbarazziamo. Non è il graucio che a me piace, però vabbè, ci sta finché è nella mente di Dylan Dogg. Spero che comunque di non vedere sempre questa cosa. Una cosa che mi è piaciuta molto, che lo dico sempre in ogni numero, ma se è il primo video mio che vedete ci tengo a ridirlo. Flashback non sono con i soliti riquadri come si dice arrotondati, ma sono in scala di grigi, quindi i neri vengono un attimino attenuati, ci sono proprio delle pennellate di acquarello, chiamiamolo così, per dare l'idea proprio che siamo in un flashback, nella mente di un ricordo più che di un flashback vero e proprio e una cosa che mi è piaciuta molto di questo numero è il finale dove Dylan Dogg scrive con la sua penna d'oca quello che è successo, lasciando anche un pochino aperta uno spiraglio sull'incubo di questa di questa vicenda e mi ha ricordato uno dei Dylan Dogg dei vecchi tempi che spesso finivano con Dylan Dogg che scriveva e ci lasciava qualche interrogativo, questa cosa mi è davvero piaciuta molto mi ha riportato ai fasti di Dylan Dogg. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero se vi è piaciuto, se proprio non vi è piaciuto, via di mezzo, ricordatevi che possiamo parlarne anche nella prossima live che ci sarà domenica 30 maggio, ve la metto qua sotto sempre in descrizione, finito questo video dovreste anche essere catapultati sulla premiere della live in modo che potete segnarvi il pro memoria, dove sarà a tema, sarà a tema Dylan Dogg e la musica, ma comunque possiamo fare qualche domanda risposta sul numero di questo mese, nulla ce lo viete eventualmente. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti i nostri Grazie.